Sai che in questi otto anni io non ricordo i governi, ricordo la felicità di Janice quando ha visto per la prima volta il nostro Quirinale, ricordo quando è nata la nostra figlia che per fortuna ha preso tutto dalla madre. Chiamiamola Guevara. Come? C'è Guevara? Ti immagini in casa quando la chiamiamo? Dov'è Guevara? Dov'è? C'è Guevara? C'è? È fantastico. Domani vado all'anagrafe. Ricordo l'arrivo del nostro Presidente della Repubblica. E' quando abbiamo scoperto la giusta lievitazione del pane. Mi scusi se la interrompo. Tra pochi giorni l'Italia tornerà al vuoto. Cosa ne pensi della campagna elettorale? Cosa ne penso? Bene. Cioè ma è una campagna elettorale interessante o no? Ma se neanche lei è seguita. Ma sono tutte uguali le campagne dai. Meno tasse, più soldi, aboliamo i poveri. Hai sentito? So che la deludo. Lei avrebbe voluto sentire qualche frase politica ma per me la vita è meglio della politica.